Buongiorno a tutti vari servizi, il servizio che ci interessa è quello di imposte di soggiorno Premendo su imposte di soggiorno si entra immediatamente su una pagina di benvenuto questa qui è una pagina di appoggio dove la parte che interessa a noi è accedi ai servizi che troviamo in basso oppure più in alto qui abbiamo il tasto accedi, sono equivalenti e un'ulteriore parola di documentazione dove abbiamo tutta la documentazione a livello di normativa, tarif, ecc la guida all'utilizzo del portale per quanto riguarda la guida è semplicemente un riepilogo, un riassunto di quello che diciamo oggi potete consultarli in qualsiasi momento direttamente online, è sufficiente premere qui e poi tutta un'altra serie di documenti che vedremo anche successivamente man mano che ci serviranno, nel senso io torno su questa pagina e li andiamo a vedere insieme in prima battuta la cosa che dovete fare è un semplice accesso al portale l'accesso al portale deve avvenire obbligatoriamente tramite credenziali di tipo forte quindi parliamo di speed o qualsiasi altro sistema equivalente è sufficiente premere su accedere ai servizi e essere rimandati a una pagina di audizione come vediamo il primo pulsante è speed, qui abbiamo tutti gli identity provider gli enti che ci forniscono la possibilità di accedere un'altra modalità che abbiamo lasciato anche è quella di cns e cie questa modalità è quella che utilizzano i professionisti solitamente tramite un lettore smart card e in fase di attivazione anche invece la modalità proprio di carta di identità elettronica intendo quella in cui è possibile utilizzare il telefono, lo smartphone per leggere il codice della carta di identità elettronica io cosa faccio adesso? Entro con il mio speed personale dove ho una situazione di test una struttura di test, ovviamente io non essendo residente e proprietario di una struttura ricettiva ho bisogno di una struttura di test ma è del tutto equivalente a quella che vedrete voi ho premuto sul mio identity provider che è poste e adesso accedo, io utilizzo la scansione del codice altrimenti come vedete avete utente password immagino che se avete già utilizzato altri servizi della pubblica amministrazione lo conoscete ok ho dato l'ok anche dal cellulare, dall'app autorizzazione concessa a questo punto qui vediamo tutti i dati presenti sullo speed a noi poco importa comunque è semplicemente un modo che abbiamo per creare un utente in automatico direttamente con i dati e questo ci permette anche di avere l'accurezza dell'identità del gestore una premessa a livello di operatività è necessario che si registri il titolare oppure il legale rappresentante della struttura a questo punto una volta effettuato l'accesso possiamo incorrere in due situazioni innanzitutto premiamo su nuova dichiarazione per inserire una nuova dichiarazione la prima cosa che chiedo di verificare è se trovate la vostra struttura ovviamente lo potete fare in qualsiasi momento non intendo che lo dovete fare ora verificate che questa prima tendina sia valorizzata io sono associato ad una sola struttura che è questa che si chiama prova prova e quindi vedo la tendina già valorizzata in caso siate possessori di più di una struttura potete trovare anche più di una voce selezionate quella per il quale vi interessa lavorare vi chiedo di fare questa prova perché come accennavo ci potrebbero essere due situazioni vedete questa tendina valorizzata oppure no in caso la vi diate valorizzata ok, siete già operativi e potete lavorare in caso non la vediate valorizzata ma la troverete bianca e vi verrà anche segnalato un messaggio a video significa che il comune non è a conoscenza che voi siete proprietari di una struttura ricettiva quindi sarebbe stata la mia situazione se io non avessi avuto una struttura di prova associata a mio nome in caso voi vedete questa tendina vuota dovete comunicare al comune che volete appunto accreditarvi al portale che siete titolari della struttura per farlo è sufficiente che mandate via mail qui quindi ritorno nella parte di documentazione mandate via mail il documento di registrazione e verifica della struttura ricettiva questo documento lo devo vedere brevemente ma è proprio molto semplice dovete indicare i vostri dati se siete una ditta o una società andrete ad indicare i dati anche della ditta e della società ricordo che lo speed nella maggior parte dei casi comunque è un'utenza di una persona fisica non giuridica ad oggi stanno nascendo anche identità giuridiche però immagino che tutti voi abbiate lo speed personale quindi è importante che voi qui indichiate proprio i vostri dati dicevamo i dati della ditta e i dati della struttura semplicemente e lo inviate questo documento al comune se posso intervenire Federico vorrei illustrare la modalità sono di nuovo Raffaele la modalità per la consegna di queste dichiarazioni possono essere inviate via PEC all'indirizzo comune bra chiocciola postecert.it oppure anche in posta ordinaria in posta elettronica poi lo trovate qui in testa questa parte che ho descritto è la modalità di registrazione quindi recapitolando molto brevemente il primo passo è di accesso quindi accediamo con speed ovviamente voi non dovete ricordarvi particolari credenziali o niente accedete con speed che è la vostra identità digitale il secondo passo è di verificare appunto che voi siate registrati come possessori di una struttura ricettiva tutto qui una volta che avete fatto questo passo siete operativi per lavorare e una volta che avete fatto questo passo la prima modalità di dichiarazione la prima pagina che ci viene mostrata è questa modalità di dichiarazione le modalità di dichiarazione sono tre dichiarazione presenze registro presenze caricamento presenze sono tre modalità perché in base alle vostre esigenze voi potrete scegliere di utilizzare la prima, la seconda o la terza queste tre modalità sono equivalenti sta a voi decidere in base alle vostre esigenze quale utilizzare parto dalla prima che è di dichiarazione presenze e immagino anche per esperienza comunque nell'utilizzo di questi portali è la modalità più usata perché è la più usata? principalmente perché è la più veloce e solitamente tutte le strutture ricettive sono a conoscenza dei dati che vengono chiesti in questa modalità entriamo proprio nel specifico così vi potete fare idea che questa modalità può fare al caso vostro altrimenti ci sono altre modalità più dettagliate semplicemente non è una questione di che una è migliore o peggiore proprio in base alle vostre esigenze dicevamo qui ho la mia struttura seleziono l'anno e seleziono il periodo partiamo da gennaio fare la prova così andiamo avanti diciamo in maniera procedurale anche questa dichiarazione è proprio ne l'abbiamo pensata passo passo con tutta una serie di controlli per evitare la possibilità che facciate qualsiasi tipo di errore o comunque aiuta molto nella compilazione infatti vi faccio notare che in cima vediamo il primo passo che è di selezionare la struttura poi per notamenti esenzioni e pagamenti questi passi potrebbero cambiare man mano che compiliamo in base appunto ai dati che andiamo ad indicare diciamo selezionato gennaio faccio prosegui a questo punto si entrerà nella parte dei pernottamenti in quante vanno indicati il numero di pernottamenti soggetti ad imposta cosa intendo con soggetti ad imposta lo sapete meglio di me intendiamo proprio i pernottamenti che voi avete riscosso quindi l'abbiamo anche indicato esclusi gli esenti o i rifiuti grandisco un altro po' sicurezza allora dicevamo quindi per quanto riguarda l'imponibile diciamo voi avete tre fasce di imposta andate ad indicare per esempio la tipologia di fascia del pernottamento che avete riscosso adesso mettiamo per esempio 5 pernottamenti di fascia B e questo è l'unico dato che ci viene chiesto in questa parte quindi abbiamo riscosso 5 pernottamenti nel mese di gennaio vado anche ad indicare più in basso che c'è stato un soggetto che si è rifiutato di pagare metto 1 ovviamente può capitare che voi non riusciate a riscuotere l'imposta per qualsiasi motivo perché una persona si rifiuta di pagare o immagino possa capitare seleziono uno giusto per farvi vedere anche questa funzionalità altrimenti se la lasciate vuoto ovviamente non vi chiederà poi i dati di questa persona faccio salve e prosegui il passo successivo è quello delle esenzioni vediamo da pernottamenti ci si è spostata l'esenzione e ci è comparso un ulteriore passo dei rifiuti di pagamento qui vado ad indicare tutti i soggetti esenti che ho ospitato quindi più che soggetti in realtà vado ad indicare il numero di pernottamenti perché come vedete non entriamo nel merito mai dei dati anagrafici della persona che abbiamo ospitato per esempio metto che ho ospitato per una notte un residente al comune e ovviamente se premo aggiungi nuova esenzione posso inserire ulteriori esenzioni se faccio elimina vado ad eliminare la riga che ho appena inserito anche qui voi compilate per quanto riguarda il mese e facciamo salve e prosegui avevo indicato che avevo ospitato una persona che però si era rifiutata di pagare se io adesso facessi salve e prosegui per capirci lui mi bloccherebbe e mi direbbe come mai mi ha indicato che una persona si è rifiutata di pagare e non la sta indicando quindi vado a premere aggiungo di nuovo soggetto e mettiamo che Mario Rossi con la carta di identità adesso metto dei dati un po' così per una notte si è rifiutato di pagare con questo tasto più posso anche andare ad indicare andare ad allegare il documento di rifiuto di pagamento riguardo riguardo i documenti sia di esenzione e sia di rifiuto sono sempre presenti qui in documentazione quindi ritornando in documentazione potete vedere che c'è sia l'attestazione dell'esenzione quindi il modello da fare firmare in caso il vostro ospite usufruisce di un'esenzione oppure la dichiarazione di rifiuto o pagamento prendiamoci un attimo e andiamo a vedere per dettaglio comunque sono molto semplici semplicemente qui ci sono i dati del soggetto e le possibilità di esenzione del comune e niente se c'è qualche nota la potete compilare data e firma del dichiarante tutto qui mentre per quanto riguarda il modello di rifiuto del pensamento questa dovreste farla compilare alla persona che si sta rifiutando di pagare con tutti i dati indicati ovviamente io ripeto sempre che in fase di presentazione lo dico sempre una persona che si sta rifiutando di pagare non sarà neanche magari molto propensa a firmarvi questo foglio però per legge dobbiamo proporlo perché comunque un ospite potrebbe rifiutarsi di pagare per qualsiasi suo motivo anche personale sono tornato nella parte di dichiarazione presenza ho indicato Mario Rossi che è stato rifiuto di pagamento vado nella parte successiva e mi viene effettuato in automatico il calcolo in base ai pernottamenti che ho dichiarato quindi per capirci il calcolo viene effettuato in automatico sui dati del primo passo che abbiamo compilato quello del numero dei pernottamenti soggetti ad imposta a questo punto o anche nei punti precedenti noi possiamo abbandonare la dichiarazione possiamo abbandonare in qualsiasi momento e poi riprendere a compilarla in un altro momento quando volete ovviamente ci ritroviamo qui sempre nel primo passo la lista delle dichiarazioni che abbiamo compilato lo stato come vedete è da inviare da inviare è uno stato di transizione nel quale io posso riprendere in modifica la dichiarazione con questo tasto in basso e la ripercorrerò passo passo andando anche a modificare i dati qualora mi sia necessario posso modificarla posso cancellarla con questo tasto qui inviarla stampare un documento di riepilogo oppure entrare direttamente al passo dei pagamenti io adesso premo per entrare al passo dei pagamenti così rientriamo nello step di prima come vediamo dopo che siamo rientrati nella dichiarazione è comparso il tasto pago online per usufruire del pagamento tramite pago PA ed aggiungi pagamento la procedura corretta di dichiarazione però non è questa nel senso non è di andare immediatamente a pagare soprattutto se usiamo pago PA poi vi spiego nel dettaglio come mai per adesso diciamo prendetela per buona così nella parte di dichiarazione e la invio primo ci invio lui ora ci prende il tema di comunicare con il backoffice dichiarazione inviata correttamente a questo punto possiamo fare la parte di pagamento o censimento di un pagamento che avete fatto con una modalità non online a questo punto notiamo che i pulsanti sulla destra sono cambiati posso sempre scaricarmi un pdf di riepilogo dove mi vengono indicati i dati della dichiarazione oppure posso vederli a video e vi faccio vedere a video giusto per per capire un po' come è la modalità nell'altra parte quella del download del documento semplicemente ci sono i dati che vediamo qui che adesso stiamo vedendo a video sono impaginati in maniera stampabile se volete stamparli per tenerne traccia altrimenti comunque rimangono sempre sul portale qui semplicemente mi fa vedere i 5 pronottamenti che avevo censito il soggetto esente la tipologia di esenzione e il soggetto che si è rifiutato di versare l'imposta i vostri dati questi poi tra l'altro i miei dati sono un po' sono di prova e niente queste sono le due funzionalità quindi dicevamo stampa e in cima la prima dettagli della dichiarazione non l'ho detto ovviamente fermandosi col mouse sul pulsante vi spiega di cosa si tratta pagamenti gli altri due pulsanti sono pagamenti e riepilogo dei pagamenti parto dal pulsante dei pagamenti per farvi vedere la funzionalità è quella di prima quindi dicevamo ovviamente adesso la dichiarazione è stata inviata ed è bloccata non posso più andarla a modificare posso inserire i pagamenti i pagamenti sono di due tipi premendo su aggiungi pagamento andiamo a dichiarare un pagamento ovvero mi immagino che voi create la dichiarazione potete inviarla immediatamente o successivamente poi una volta che siete a conoscenza dell'importo che dovete pagare potete fare aggiungi pagamento in caso vogliate censire un pagamento qui ci chiede il tipo di tipo bonifico quindi vado ad indicare la data del pagamento il totale nelle note potete scrivere quello che volete importante anche l'identificativo di pagamento perché questo permette poi anche di associarlo diciamo in maniera più semplice da parte dell'ufficio alla vostra dichiarazione e quindi qui semplicemente cosa state facendo voi pagate quel bonifico andate a dichiarare al comune che avete pagato e quindi qui inserite gli estremi e faccio nulla per farvi vedere anche la parte di Pago.pa e il pulsante Pago.pa a questo punto premo verrà indirizzato Pago.pa qui ci chiedo una conferma faccio ok e cosa sta facendo adesso sta creando direttamente nella banca dati del comune una posizione riguardante la vostra dichiarazione quindi adesso mi sta chiedendo conferma dei miei dati personali ovviamente questi sono i dati miei di test però sono quelli presenti sul vostro speed come vedete non dovete compilare granché e molto importante questa descrizione della causale che viene compilata comunque in automatico se volete inserite delle note e viene indicato in automatico l'importo a questo punto potete fare due cose possiamo premere su Paga e si viene reindirizzati al sistema di pagamento non so se l'avete mai usato ma è un normale pagamento online tramite la carta di credito oppure Stampe Paga Stampe Paga è quella funzionalità che ci genera invece l'avviso di pagamento che poi voi successivamente potete andare a pagare alle poste al tabacchi o adesso anche in alcuni supermercati potete andare anche a pagare in contanti ovunque si può pagare tramite il canale Pago.pia questa è la funzione ora io posso anche magari perché se premo Stampe Paga poi viene creata una posizione appunto di quell'avviso quindi non potrei più premere Paga e non so vi faccio vedere magari questa volta usiamo Paga la prossima dichiarazione vi posso anche far vedere il bollettino pensavo vediamo Paga adesso lui qui si sta spostando sul sito dei pagamenti qui dopo noi ci appoggiamo diciamo proprio all'ente del Pago.pia al WISP e anche qui si può effettuare un pagamento entrando con lo speed o entrando semplicemente con la mail vedete voi la mail è quella dove viene inviata la ricevuta mi chiede l'indirizzo mail poi semplicemente si inserisce nel passo successivo la carta di credito e si paga ecco per il momento mi fermo qui tanto è una cosa di prova poi il passo successivo semplicemente mi chiede i dati della carta quindi faccio nulla in modo tale da ritornare sul portale e anche comunicare appunto al portale che ho annullato il pagamento e come vedete ho fatto nulla e ritorno nella parte dei pagamenti e vi è venuto tracciato che un pagamento online è stato annullato e rifiutato ovviamente annullato perché ho premuto annulla e sono tornato indietro ok questa diciamo per quanto riguarda i pagamenti è questo quindi è semplicissimo una volta che inviate la dichiarazione avete questo tasto col simbolo dell'euro per andare a pagare o censire un pagamento l'altro tasto a disposizione è riepilogo pagamenti è simile a questo riepilogo pagamenti al tasto che abbiamo qua in alto di estratto conto e questo tasto vi permette di tenere traccia di tutti i pagamenti che fate o la vostra posizione in questo caso mi dice che questa dichiarazione da 7,50 euro non ha nessun pagamento inserito ovviamente perché non abbiamo pagato e se vado se vado in estratto conto probabilmente mi farà vedere quel pagamento annullato comunque vi faccio vedere questa funzionalità appunto perché anche se voi pagate tramite bonifico tramite Pago.pia potete seguire lo stato dei vostri pagamenti con Pago.pia vedrete praticamente nel giro di un'ora già che il pagamento è arrivato al comune si è associato alla vostra dichiarazione mentre con Bonifico ovviamente c'è il tempo tecnico dell'ufficio che deve associare il pagamento alla dichiarazione però dico questo semplicemente perché con queste funzionalità riuscite a tenere traccia dei pagamenti e per quanto riguarda i pagamenti direi che è tutto ok allora dicevamo dichiarazione presenze e anche la prima pagina che viene che viene mostrata e per esperienza dicevo è anche quella più veloce e che viene più utilizzata le altre modalità di dichiarazione presenze quando vengono utilizzate solitamente vengono utilizzate quando non si è a conoscenza del totale dei prenotamenti perché se pensiamo alla situazione di prima noi semplicemente abbiamo indicato che avevamo riscosso 5 per notamenti lo vediamo anche qua quindi dobbiamo sapere il totale che abbiamo riscosso per quanto riguarda invece le altre modalità e sono comunque simili diciamo nel primo passo struttura di prova davanti posso andare ad inserire presenza per presenza di tutti gli ospiti che ho avuto quindi ovviamente io vi sconsiglio di inserire persona per persona ma magari lavorate famiglia per famiglia o camera o anche gruppi di persone potrebbe venervi utile vi faccio vedere velocemente l'inserimento di una nuova presenza per esempio qui vado ad inserire Mario Rossi la data di check in creiamo adesso una dichiarazione di febbraio quindi magari mettiamo dal 4 all'11 il numero di ospiti quindi diciamo che era una famiglia di 4 persone e qui dobbiamo indicare sempre la fascia facciamo una fascia salve e prosegui punto come prima mi viene chiesto se qualcuno di loro era esenita mettiamo sempre magari c'era un minore e un ospite minore vado avanti e inserisco rifiuti di pagamento avete capito comunque è la stessa videata di prima non sto ad inserirlo vado avanti faccio salve e mi trovo qui la mia data di check in di check out il numero di pernottamenti e il tipo di imponibile imponibile ha questo codice che serve a noi più che altro in seconda presenza giusto per farvi vedere man mano come si compila questa maschera per esempio non so scriviamo pullman giusto così per inserire magari un po' più di persone facciamo andiamo sempre a febbraio facciamo così mettiamo che erano 10 persone c'era un autista non so 3 minori via facciamo così come vedete adesso si sempre rifiuti rifiuti di pagamento in caso ci siano altrimenti andate avanti fate salva qui man mano vi trovate tutte le persone che avete ospitato quindi questa funzione diciamo vi potrebbe anche essere utile per tenere la contabilità ovviamente nel caso di una grande struttura immagino che riuscirà ad avere già traccia dei pernottamenti riscossi anche per motivi contabili suoi interni mentre magari una struttura più piccola potrebbe decidere di utilizzare questa funzionalità anche proprio per tenere traccia un po' diciamo una specie di gestionale ecco ovviamente ripeto sempre in base alle vostre esigenze se preferite usare la prima modalità è più veloce qui invece abbiamo con la seconda modalità siamo entrati proprio nel merito di dare un nome all'ospite io qui in realtà ho scritto Mario Rossi avrei potuto scrivere famiglia bianchi o qualsiasi cosa e questo qui è più un nome vostro per capire di cosa si tratta per esempio potreste anche scrivere il nome della camera se avete le camere col nome o qualcosa del genere qui abbiamo sempre i classici tastini per modificare per cancellare o per vedere quello che abbiamo inserito in maniera più compatta una volta che ho inserito tutte le mie presenze posso inserirle anche diciamo di altri mesi quando premo su crea presentazione questo è il tasto che interessa a noi per creare la presentazione vado ad indicare quale mese voglio generare genero febbraio perché avevo messo le presenze a febbraio e genero febbraio come vedete mi rimanda direttamente nella parte dei pagamenti quindi mi è stato effettuato il calcolo la data di oggi con il residuo da pagare posso sempre ritornare in dichiarazione presenza e vedere come mi è stata creata la dichiarazione quindi dicevamo questa dichiarazione è stata creata dal registro presenza lo vediamo da qui possiamo inviarla adesso facciamo sempre la dichiarazione inviata questa immagino che sarà tardiva esatto comunque come vedete una volta che voi l'avete generata è identica in tutto per tutto a quella di prima il registro presenza è una comodità per voi proprio in caso non abbiate già il totale dei pernotamenti riscossi volevo farvi vedere la stampa del bollettino poi qui sempre voi decidete qual è la modalità che per voi è più comoda se pagare tramite bonifico quindi puoi censirlo se pagare tramite pago PA direttamente con la ca oppure tramite il bollettino pagando in contanti stampe paga quindi dicevamo o si preme paga o stampa paga adesso ho premuto a differenza di prima stampa paga per azione stampa il bollettino esatto qui ci indica appunto che se noi generiamo un bollettino cosa succede alla posizione che avete creato state indicando che voi pagherete tramite bollettino quindi seguo un canale diverso proprio una modalità diversa quindi vi ricorda appunto che una volta che fate conferma poi viene generata una posizione pagabile tramite bollettino ecco il bollettino lo apro e questo è l'avviso quindi voi con questo vi potete recare alle poste al tabacchi o qualsiasi ente abilitato anche qui dicono supermercati in qualsiasi posto voi potete pagare con Pago.pa è sufficiente il codice avviso non lo sto vedendo eccolo il codice avviso oppure la scansione del QR code potete pagare anche in contanti le tasse questa è un'altra funzionalità dicevamo di pagamento io adesso faccio per annullare il pagamento clicca qui così evitiamo di creare posizioni sporche e niente questa è l'altra modalità di pagamento diciamo le abbiamo viste tutte quindi inserimento di un bonifico quindi fare il bonifico precedentemente poi dichiarare che avete pagato in quel caso un pagamento dichiarato oppure il pagamento online pagamento online tramite carta oppure tramite avviso la terza modalità di dichiarazione è quella di caricamento presenze il caricamento presenze è una prima modalità che noi avevamo proposto di dichiarazione più che altro è proprio un caricamento delle presenze vi faccio vedere il dettaglio di cosa si tratta è simile a quella di registro presente ma la differenza principale è che io vado ad indicare il mese per esempio marzo e qui posso andare a caricare un documento excel il documento excel che posso caricare deve avere però una formattazione ben precisa perché sia letto dal programma ritorno nella parte di documentazione e abbiamo allegato un esempio di compilazione quindi questo qui è il modello xls excel che è di esempio e questo qui invece è vuoto vi faccio vedere quello di esempio giusto per farvi capire di cosa si tratta ok ok praticamente bisogna rispettare questo formalismo quindi si tratta di queste sei colonne dove la prima è il nome dell'ospite data di check-in data di check-out il numero degli ospiti e l'esenzione quindi in caso ci sia stata un'esenzione occorre indicare questo codice e il numero degli ospiti esenti questo codice è il codice appunto dell'esenzione qui di lato nell'altro tab avete il codice in corrispondenza del fatto che sia un residente un minore un ospite eccetera questa modalità a differenza dell'altra adesso la chiudo così anche in modo tale da farvi vedere il portale questa modalità praticamente una volta che io carico il mio documento qui e faccio carica ve le riporta in registro per quindi da registro di presenza qui vi troverete rientro in e vi troverete tutta la lista di tutte quelle persone che ho censito nel mio file excel tutte qui in fila e create la presentazione quando vi potrebbe essere utile questa modalità principalmente in due casi ovviamente come avete visto faccio la premessa che è una modalità diciamo un po' più complicata soprattutto per un utilizzo nella media del programma nel senso quando vi può essere utile questa modalità principalmente in due casi se utilizzate già un file excel per tenere traccia dei vostri ospiti delle vostre famiglie che ospitate magari potreste pensare di strutturarla in un modo che già riuscite ad avere tutta la lista formatata come dicevamo oppure se avete un gestionale che vi permette di fare le estrazioni a quel punto potreste anche decidere se avete un gestionale che fa le estrazioni di utilizzare questa modalità riguardo quest'ultima cosa che ho detto nel senso sì e no perché perché se avete un gestionale molto strutturato che vi permette di fare le estrazioni immagino che riuscite anche ad avere il totale dei pernottamenti soggetti ad imposta che avete riscosso però nel senso se avete necessità appunto o vi è più comodo lavorare su un file Excel per qualsiasi motivo vostro potete poi utilizzare la funzione di caricamento presenze dico solo un'ultima cosa ovviamente se compilate un file Excel c'è la possibilità che fate errore di battitura o cose del genere se invece usate la procedura noi abbiamo previsto tutta una serie di controlli o comunque avete visto dovete selezionare da una tendina e scrivere giusto i nomi o comunque qualche piccolo dato niente di più quindi niente queste sono le tre modalità ripeto decidete decidete voi quale usare in base a come vi siete strutturati noi forniamo questi questi tre servizi queste tre modalità decidete voi la prima ovviamente come avete visto è più veloce la seconda vi permette di censire manualmente le famiglie invece la terza con un foglio Excel ok allora per quanto riguarda invece il modello 21 la pagina è questa l'ultima diciamo di fianco documentazione siamo dal 21 e adesso abbiamo compilato solo due dichiarazioni quindi ovviamente non mi verrà compilato in automatico anche perché non ho pagato però in ogni caso riesco lo stesso a farvi vedere di cosa si tratta e semplicemente come avete visto io ho selezionato la struttura perché come dicevo all'inizio io potrei anche essere proprietario di più strutture non ci sarebbe alcun problema ho selezionato la mia di prova che era solo una il modello 21 vado a indicare appunto che nel 2021 è l'anno corrente e le informazioni lo voglio generare qui praticamente cosa abbiamo fatto abbiamo riportato le informazioni che ci sono sul modello 21 cartaceo le abbiamo riportate a video la finalità è sempre di poter generare in automatico e stampare il modello 21 scorrendo in basso vediamo immagino che lo conoscete noi lo stiamo vedendo in maniera verticale come sapete meglio di me il modello 21 è su un A4 orizzontale quindi qui la visualizzazione è leggermente diversa ma poi quando lo andiamo a stampare verrà identico a quello che compilate voi manualmente o nelle modalità che come vedete nella colonna importi mi va a compilare in automatico con gli importi che ho dichiarato man mano che il comune censirà o comunque riceverà i versamenti che avete effettuato verrà compilato anche l'importo e il numero di quietanza perché ovviamente è un dato che avevamo l'avevamo prima con Pago.pa e l'abbiamo comunque in banca dati comunale una volta che viene ricevuto il pagamento quindi 1, 2 e 3 colonne saranno compilate in automatico quello che resta a voi da fare è indicare qui il numero di ricevute dicevo che noi stiamo vedendo il modello 21 in maniera verticale quando invece è orizzontale perché voi vi immaginate se andate ad indicare qui parecchi numeri di ricevuta man mano lo spazio finisce ecco in realtà poi il modello 21 si adatta faccio un esempio anche in questo campo qui posso continuare a scrivere anche e mi continuo a scorrere e poi successivamente in caso serva mi va a capo in automatico quindi vi volevo tranquillizzare su questa cosa noi per esigenze video l'abbiamo un pochino diciamo ristretto orizzontalmente però è il modello 21 classico e quindi il vostro onere è indicare il numero di ricevute non so se potete anche scrivere caratteri lettere così indicare dal 10 al 30 qualcosa del genere e come vedete in basso anche già vi fa i totali gli importi sono bloccati perché sono quelli che dichiarate appunto perché abbiamo la possibilità di leggerli e così non andiamo ad incorrere poi in problemi di inserire importi diversi dalla dichiarazione è sempre presente un campo note dove posso andare ad indicare quello che voglio qui a destra e in fondo si hanno già appunto compilati con i dati dell'agente contabile e altro allora faccio conferma informazioni una volta che ho compilato ovviamente come dicevamo io qui adesso ho pochi dati quindi sarà la vostra situazione a gennaio dell'anno prossimo cosa faccio? posso sempre modificarlo in qualsiasi momento quindi potrei anche generarlo prima e andare a vedere man mano le modifiche o inserendo ulteriori dati e poi posso invece generarlo quindi premo su genera pdf lo apro anche qui mi viene generato il modello 21 come vedete è simile cioè comunque è un'informatizzazione nostra ma i dati sono gli stessi che avete nel modello 21 classico come dicevo qui se c'è bisogno di più spazio ecco che ne ho fatto qui chiudiamo se c'è bisogno di più spazio qui va in automatico lui c'è più riga tanto qui spazio in basso ne abbiamo riusciamo tranquillamente se dovete scrivere tante cose anche nel campo note per qualsiasi evenienza il modello 21 si adatta generato il modello 21 a gennaio lo potete andare a stampare firmare in maniera autografa immagino anche in formato digitale giusto Raffaela e comunicarlo all'ufficio esattamente si può anche firmare digitalmente e trasmettere via PEC via PEC ok cioè questa è la funzionalità del modello 21 come avete visto anche qui si tratta di un aiuto alla compilazione anche appunto per il fatto che noi siamo già a conoscenza dei dati che avete dichiarato quindi in fin dei conti come lo ripetiamo giusto per dire legalmente 1 2 e 3 colonne le avrete già compilate quindi quello che rimane da fare voi sarebbe compilare la prima colonna e il campo note in caso ce ne siano tutto qui ecco non c'è altro voi in questo modo l'avete generato e semplicemente ho ricaricato la pagina micchia esatto la struttura e premete qui per generare il pdf e stamparlo stamparlo oppure firmarlo in maniera digitale questo è un po' tutto nel senso il portale si chiude qui adesso sempre ci teniamo spazio per le domande e comunque il portale è già online quindi potete accedere tranquillamente anche appena concludiamo chiedono Raffaele se nel modello 21 è obbligatorio ammattere il numero delle ricevute io qui no in realtà no è un'informazione ulteriore che è possibile inserire il modello 21 però è un modello ministeriale che prevede anche queste colonne sì il lato nostro in realtà esatto è di campi obbligatori riguardo il modello 21 non ne abbiamo previsti ok sì anche Barbara chiedeva sempre esatto il numero delle ricevute non è obbligatorio da inserire è un dato aggiuntivo che se volete potete inserire ma non è obbligatorio se mi è permesso Federico vorrei davvero ringraziarti tanto per questa presentazione oltre che tutto il lavoro di back office che hai fatto dietro le quinte nei mesi scorsi per arrivare a questo punto direi che anche ulteriori domande che dovessero esserci potranno trovare una risposta appunto scrivendo all'indirizzo mail dell'ufficio tributi del comune a quale è possibile sempre rivolgersi anche per ulteriori chiarimenti io ti ringrazio ovviamente pubblicheremo come avevi anticipato tu sul profilo youtube del nostro comune in l'intera presentazione esatto va bene saluto e ringrazio anch'io per qualsiasi cosa appunto ci sentiamo per supporto o qualsiasi necessità buona giornata a tutti grazie e buona giornata anche da parte mia grazie a tutti